Reynam Hall è una magnifica dimora di campagna situata nelle verdi campagne del Norfolk. La sua costruzione iniziò nel 1619 e all'epoca fu considerata particolarmente innovativa nel suo design. Oggi possiamo ammirarla circondata da un parco, maestosa ed elegante, con i suoi caldi colori che si stagliano sul prato smeraldino e il cielo mutevole dell'Inghilterra. Ma Reynam nasconde un inquietante segreto e prima di raccontarvelo vi preghiamo di iscrivervi al canale e mettere un mi piace. Grazie e buona visione. La vera fama di Reynam Hall non deriva dai suoi illustri abitanti in vita, anche se il più importante di essi fu Charles Townsend II, che divenne visconte nel 1700. È piuttosto un fantasma che si manifesta tra le sue antiche mura da oltre 200 anni, un fantasma che si può considerare a buon diritto il più famoso al mondo. Ma chi è questo spettro e cosa gli ha conferito tanta celebrità? Per scoprirlo dobbiamo percorrere la storia di Lady Dorothy Walpole, nata nel 1686, proveniva da una famiglia di grande rilievo. I Walpole erano un casato nobiliare antico e vantavano molti membri illustri, sia nel campo della politica che della nobiltà. In un'ironica coincidenza del destino, uno dei discendenti di Lady Dorothy sarebbe diventato l'autore di uno dei romanzi gotici più importanti del periodo romantico, Hoes Wokho. Noto per il suo celebre lavoro intitolato Il Castello di Otranto, questo fatto rende ancora più affascinante la storia di Lady Dorothy e il suo legame con la famiglia Walpole. Cresciuta in una condizione di agiatezza, Lady Dorothy ebbe l'opportunità di godere di ogni desiderio. Suo padre, membro del Parlamento, e suo fratello, Sir Robert Wokho, che in seguito sarebbe diventato primo ministro, garantirono alla famiglia una posizione di prestigio e influenza nella società. Quando Lady Dorothy si innamorò del visconte Charles Townsend, si abbandonò alla sua passione con gioia e fiducia. Tuttavia, suo padre, che era anche il tutore di Townshend, si oppose fermamente al loro matrimonio. Nonostante il rango e le ricchezze del giovane visconte, il padre di Lady Dorothy temeva che la figlia fosse facilmente influenzabile e che fosse vittima del fascino seducente di Townshend. Il matrimonio non ebbe luogo, e Sir Townshend sposò Lady Elizabeth Callum. Nonostante il destino abbia separato Lady Dorothy da Charles Townsend, l'uomo che avrebbe dovuto sposare, la vita riservò un'altra sorpresa per entrambi. Sir Townshend, dopo la morte della sua prima moglie Lady Elizabeth Callum nel 1711, si ritrovò libero di coronare finalmente il suo sogno d'amore con Dorothy. Fu un matrimonio celebrato in circostanze sinistre, proprio intorno al 25 luglio del 1713, con la tomba fresca di Lady Elizabeth come sfondo. Prima delle nozze, durante gli anni di attesa, Dorothy non si era rinchiusa in casa, come potrebbe far pensare un macabro sarcasmo, ma era diventata l'amante del marchese Wharton. Quest'uomo, un dissipato senza scrupoli, fu costretto ad abbandonare improvvisamente il paese a causa dei debiti che aveva accumulato. La relazione con il marchese Wharton si interruppe, permettendo a Dorothy di realizzare il suo desiderio di sposare Townshend. I primi anni di matrimonio tra Lady Dorothy e Sir Townshend furono felici e sereni. Tuttavia, l'idilio non sarebbe durato a lungo. I pettegolezzi sul conto di Lady Dorothy cominciarono a circolare e arrivarono alle orecchie di Townshend. Nonostante fosse un uomo affascinante, il carattere di Townshend era terribile, e la gelosia lo consumava. Preso dall'ossessione e dalla follia del sospetto, Sir Townshend decise di imprigionare Lady Dorothy all'interno delle sue stanze a Townshend Hall, privandola persino del contatto con i suoi figli. Questa prigionia e il trattamento crudele che le venne inflitto fecero sì che Lady Dorothy scomparisse dalla vista di tutti. Nessuno la vide più e nessuna notizia giunse sul suo conto fino al 1726, quando venne ufficialmente dichiarata morta a causa del vaiolo. Tuttavia, i segreti e i sussurri si diffusero rapidamente, alimentando l'idea che le cause della sua morte fossero ben più sinistre e cruente di quanto dichiarato ufficialmente. Le tristi storie dei vivi che si svolsero a Waynam Hall lasciano ora spazio a quelle che ci trasportano nei recessi del mondo delle ombre. È quasi incredibile pensare che la dama sia rimasta in silenzio per quasi un secolo, oppure forse ha tormentato coloro che osavano parlarne. Tuttavia, sembra che durante il periodo della reggenza la sua presenza sia riemessa con forza, addirittura manifestandosi al reggente in persona durante il suo soggiorno a Townshend Hall. Diversi testimoni descrissero una figura femminile vestita di marrone, o un'ombra bruna che si aggirava per i corridoi della dimora. Alcuni affermarono di aver riconosciuto le fattezze della giovane dama di cui abbiamo già parlato, la cui magnifica immagine è ancora appesa nelle stanze della residenza. La Brown Lady, in un'epoca di fervente interesse per i fantasmi, il genere gotico e il mistero, attirò immediatamente l'attenzione degli appassionati del soprannaturale. Il primo avvistamento documentato del fantasma fu quello di Lucia C. Stone durante una festa di Natale a Waynam Hall nel 1835. La signora Stone raccontò che Lord Charles Townshend aveva invitato diversi ospiti, tra cui il colonnello Loftus, a partecipare alle celebrazioni natalizie. Loftus e un altro ospite di nome Hawkins dichiararono di aver visto la Brown Lady mentre si dirigevano alle loro camere da letto, notando soprattutto l'abito marrone fuori moda che indossava. La sera successiva, Loftus affermò di averla vista di nuovo, descrivendo in dettaglio le sue caratteristiche, tra cui le orbite vuote e il volto scuro. Questo avvistamento del colonnello Loftus ebbe conseguenze nefaste per Lord Charles, poiché il personale di servizio fece le valigie e abbandonò definitivamente Waynam Hall. La reputazione sinistra di Townshend Hall continuò a crescere. Nel 1836, lo scrittore Frederick Marriott, un amico di Charles Dickens, avvistò il fantasma. Marriott era convinto che gli avvistamenti fossero legati ai contrabbandieri. Mentre dormiva nella stanza da letto dove il ritratto di Dorothy era appeso, tenne una pistola carica sotto il cuscino, inutile contro i fantasmi, ma utile contro i contrabbandieri. Una notte, camminando lungo il buio corridoio in compagnia di due membri della famiglia, vide avvicinarsi qualcuno con una lanterna. Indossando solo il pigiama da uomo vittoriano, per non apparire indecente, si nascose dietro una porta. Grande fu la sua sorpresa quando si accorse che la sua preoccupazione era inutile. Davanti a lui sfiorò la dama Bruna, che si fermò alla sua porta e sorrideva in modo malizioso e diabolico. Ma Marriott, da perfetto gentiluomo vittoriano, era sempre pronto. Estrasse la pistola e sparò allo spettro, ignorando il fatto che, se fosse stata una serva spiritosa, la situazione sarebbe potuta finire in tragedia. Tuttavia, l'apparizione si dissolse nel nulla, lasciando solo il proiettile conficcato nella porta come prova tangibile dell'evento. Dopo questa serie di avvistamenti, Raynham Hall tornò a vivere in una tranquilla solitudine. Ma nel 1926 si parlò di un'ultima apparizione della Brown Lady sulle scale. L'evento scatenò nuovamente l'interesse e la curiosità degli abitanti e degli appassionati di fenomeni paranormali. Da allora, la storia della misteriosa Brown Lady di Raynham Hall ha continuato a suscitare fascino e dibattito. Gli avvistamenti e le testimonianze si sono tramandate nel corso dei secoli, mantenendo vivo il ricordo di Lady Dorothy e del suo destino tragico. Il suo spirito errante sembra ancora vegliare sulla dimora, intrappolato tra le pareti di pietra e i corridoi silenziosi. Ancora oggi, Country Life è una rivista settimanale britannica che celebra la campagna e i suoi piaceri in modo molto aristocratico. Nel lontano 1936, la rivista decise di dedicare un articolo a Raynham Hall e inviò un fotografo di nome Capitano Hubich, Provan per catturare alcuni scatti suggestivi della dimora. Provan e il suo assistente, Indra e Shira, si trovarono sulle scale del palazzo intenti a fotografare. Quando improvvisamente accadde l'impensabile, la Brown Lady fece la sua apparizione. Shira raccontò di aver visto una forma vaporosa che pian piano si trasformava in una figura femminile e scendere lentamente le scale verso di loro. Con istinto rapido, Shira guidò Provan affinché rimuovesse il cappuccio dell'obiettivo, mentre lui stesso attivava il flash della macchina fotografica. Non sapevano ancora cosa avrebbero scoperto nel negativo della pellicola. Poco dopo, quando la foto venne sviluppata, apparve l'immagine iconica della Brown Lady. Country Life decise di pubblicare l'immagine il 26 dicembre 1936 e la ripropose anche nel numero di gennaio 1937, scatenando un grande interesse e suscitando dibattiti sul fenomeno soprannaturale. In seguito, il rinomato ricercatore del paranormale, Harry Price, analizzò attentamente le immagini e confermò la loro autenticità. Secondo lui, non potevano essere un falso e rafforzavano la testimonianza dei due uomini. È ormai ampiamente accettato che la figura della misteriosa signora Bruna Vaghi davvero nei corridoi della splendida dimora di Townsend Hall. Gli esperti escludono la possibilità che si tratti di un ectoplasma, poiché, secondo la foto, l'ectoplasma necessita di un medium che fornisca l'energia per manifestarsi, mentre questo spettro sembra avere un controllo autonomo sui propri tempi e modalità di apparizione. Wainham Hall è diventato un'icona dell'investigazione paranormale, attirando ricercatori, studiosi e curiosi da tutto il mondo. La sua fama si è diffusa come una leggenda, alimentata dalle testimonianze di coloro che sostengono di aver sentito passi furtivi, voci spettrali e avvistato apparizioni misteriose. Anche oggi abbiamo terminato il nostro viaggio nel paranormale e vi invitiamo ad iscrivervi al canale per non perdere nemmeno un aggiornamento. Grazie.